Salve, sono Davide D'Antonio del Teatro Inverso di Brescia, però non sono qui in Veste come Teatro Inverso, ma parlo per molti operatori che in questo momento si sono impegnati in un progetto molto lungo e con cui stiamo condividendo un percorso di fondazione. Dal 21 al 31 luglio del 2009 si sono riuniti una serie di operatori che sono stati chiamati al Festival KiloWatt per un convegno che era vietato parlare dell'Aurora. Da questo convegno, dopo tre giorni di accesa discussione, è risultato che esisteva una certa di contemporaneità che in qualche maniera si poteva condividere nelle scelte di alcuni operatori e che era trasversale a molti delle persone che erano presenti. Erano presenti da piccole realtà che sostenevano la loro alterità rispetto anche ai grossi teatri stabili, pubblici o quanto erano e dall'altra parte erano presenti anche grossi festival, grossi teatri pubblici, con grossi intendo con un'attività grossa. Allora da queste differenze si è in qualche maniera cercato di sviluppare un progetto e questo progetto sta sviluppandosi a tappe. Quindi sono dei tavoli di lavoro che stanno agendo su delle tematiche molto specifiche e si sta puntando alla fondazione di un organismo, di un'associazione informale che sia assolutamente trasversale, cioè nel senso che ha già all'interno una serie di soggetti che vanno appunto dal piccolo teatro a alcune residenze, a molti festival, ma di diverso tipo, e che stanno cercando di ragionare insieme su molte tematiche legate alla produzione, alla distribuzione dello spettacolo dal vivo e ovviamente sul tema della contemporaneità. Allora passo la parola a Agostino che illustrerà brevemente lo stato dei lavori e cosa sono i prossimi appuntamenti.